Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, sono le 10.57 e oggi è 20.08 non so perchè sbaglio dal 100 marzo del 20.08, 23 agosto del 20.08 e adesso dobbiamo fare una bellissima passeggiata di quelle belle, dopo che si è cominciato il campionato di Serie A, bellissimo, bellissimo ha cominciato tutte le nostre partite, è stato bello questo campionato di Serie A. Dopodiché il campionato di Serie A non è che fa tanto caldo, oggi non è che fa tanto caldo, come vedete, spessore, come state vedendo, che fredda della fotocamera e tutto questo. Grazie per tutti voi che mi seguite sul nostro canale, gioco a punto che sto parlando di calcio, ho comprato pure la Serie B e ci partito una squadra che non è più, vabbè, non è, vedo, vedo, vedo qui, vedo. intanto ne arrivo nella piazzetta della piazzetta, la tesola resta appunto un attimo che ci avezzo e poi ci vediamo